Avrà, come ti ho detto in precedenza, avrà bisogno di tempo perché l'Italia è un'altra cosa e Roma e la Roma in questo momento stanno avendo dei problemi importanti, come stai vedendo, di risultati e domenica c'è la Juventus e se la Roma dovesse perdere significa che Saouda arriva in una squadra che sicuramente nelle prime due partite ha fatto un punto, diciamo deboli. E se va a perdere a Torino avrebbe fatto un punto in tre partite, non un inizio bello. Sì, dopo una brava prossima stagione per l'allenatore De Rossi, dopo Giuseppe Morino, la squadra e i tifosi vogliono vincere questa stagione, vince in campionato e vince in Europa League. Sì, questa domanda per questa stagione, Roma solo, i tifosi di Roma, la media di Roma, tutte le commozioni di Roma, vogliono solo andare nelle prossime stagioni, la Champions League o vince, vince la Coppa Italia, vince il Combinato, la Scudetto o solo andare nel quattro posto per la Champions League? La Roma non vincerà lo Scudetto, lo Scudetto la Roma non lo vince, perché purtroppo non siamo strutturati, costruiti per vincere lo Scudetto. Per me lo rivince nuovamente l'Inter, se non lo vince l'Inter credo lo vincerà o la Juventus o il Napoli, secondo me una di queste tre. Però l'Inter, la mia favorita è l'Inter, perché è la squadra più forte del campionato. I tifosi della Roma vorrebbero tornare a giocare, sì, vorrebbero tornare a giocare la Coppa Campioni, la Champions League, la Coppa Italia purtroppo non ti dà la possibilità di giocare la Coppa dei Campioni, la Champions League, e poi la Roma negli ultimi anni purtroppo la Coppa Italia l'ha giocata sempre molto, molto male, estremamente male. Grazie.